buongiorno abbiamo questo semi rimorchio centinato 13 metri e 60 centina alla francese in discrete condizioni generali da revisionare con la revisione scaduta notate le condizioni reali del mezzo dei longheroni laterali che presentano un po di ruggine notate le condizioni delle gomme i cerchi seconda gomma cerchi terza gomma i cerchi guardate un po le condizioni del telaio guardate qua presenta un po di ruggine in alcuni punti vi faccio vedere un po come sono le condizioni interne allora guardate qua il telo è molto bello copri scopri il tetto è bello i teli anche internamente sono interi ci sono abbastanza stecche c'è la buca copri scopi e la buca coils questa è la gomma di scorta questo queste sono le condizioni del del legname del pianale qua ci sono le sue luci che il motivo lo sconosco il motivo ma sono smontate come potete vedere ma ci sono faccio vedere l'altro lato le medesime condizioni dell'altro lato qua abbiamo il regolatore delle sospensioni che sono ad aria i cerchi sono marca non riesco a vedere bene che marca sono questi cerchi qua comunque chi li conosce sa subito che marca sono i freni sono freni a disco dicevo qua abbiamo quindi il regolatore delle sospensioni in più abbiamo manualmente il sollevatore del primo asse che come vedete in questo momento è sollevato primo asse sollevato ecco le condizioni sono discrete nel senso che bisogna fare di qualche lavoro di carrozzeria la struttura è buona i teli sono ancora abbastanza in ordine qua dietro è segnato il logo dell'azienda che ce l'aveva per privacy non lo posso riprendere per quello non vi faccio vedere l'altra parte del telo e queste sono le condizioni sotto come ecco fate qua facendogli qualche lavoro di carrozzeria il semi rimorchi è in pieno stato operativo insomma è a posto bisogna solo mettergli qualche gomma e dargli una rifrescata di carrozzeria tutto lì il prezzo riguardo il prezzo parlate con il nostro venditore e la macchina è disponibile per visione e prova presso la nostra sede di cuneo buongiorno puoi vendere il tuo camion subito noi di alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi di tutte le marche di tutte le età pagamento immediato e trattative trasparenti via